Benvenuti su RealNapoliFootball, ragazzi, andiamo da due belle vittorie di fila, vediamo se riusciamo a fare la terza e andiamo a cercare il prossimo avversario, come sempre, se vi fa piacere lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, commentatevi per supportarmi in questa scalata alla divisione 2, questo sarà divertente, alla divisione 1 con soli i giocatori del Napoli, ragazzi, mannaggia, l'avversario trovato è Napoli contro una squadra giapponese che non so minimamente chi sia, aveva tutto il primo tempo, 20 passaggi totali, eh questo sì, questo sì, vabbè, speravo di rubarla, noi gliela abbiamo permesso, bene così, aspetta però, aspetta, perché ste maglie così, meglio che lui gliela do bianca, gliela do bianca, cazzo, ancora senza Lobo, che a me quando Lobo non gioca, mi manca, quello è il problema, ok, lo faccio come prima, anche perché io voglio provare a bloccare il trequartista, stai l'ansietta, sì sì, eh sì, li sto stringendo, fuori Lobotka, dentro Dendonker, dentro Dendonker, Dendonker, Delyski, metto trequartista, a sto punto assolutamente, quasi sale un po', faccio scendere un po' Politano e Kvara, perché prima, come hai detto tu, avevo poco supporto, secondo me stavano un po' troppo alti, proviamo così, andiamo al match, ragazzi, vediamo che succede, vedo, secondo me, prima stavano un po' troppo alti, si parte, Napoli, non lo so, Napoli contro non lo so, Cosimena, batte direttamente per Nathan, che allarga subito per Mario Rui, proviamo ad attendere, scende Rui con tutta calma, la rida dietro ad Anghissa, attenzione, brividi qui, palla per Dendonker, scende Dendonker, vede dentro, Kvara, Schelia, penetra Kvara, attenzione, Devling di Kvara, che poi l'alza, però si menne, che l'appoggia per i ziedischi, un po' di confusione qui, di cui non abbiamo approfittato, attenzione, Politano, Kimmik, provo a rilanciare dall'altro lato verso Doku, attenzione, palla dentro, Brachmani, palla per Meret, che rilancia lungo, verso Victor Osimene, che la gira a ziedischi, che fa correre Kvara, la palla però non arriva qui, c'è Kvara, Schelia, attenzione, Dendonker si fa bruciare in maniera semplicissima da Davids, chiaramente, però recupero palla però qui, Dendonker, poi si gira, prova ad andare dentro da Osimene, errore di Dendonker, palla dentro, Anghissa, va subito da Politano, Osimene, dentro per Ziedischi, va dentro, va Kvara, Schelia, gran palla, Kvara, Kvara, Kvara Schelia, il portiere si sposta e Kvara l'appoggia, facile facile, alla sua destra, passiamo noi, ho letto, ho letto, passiamo noi ragazzi, bella giocata di Kvara, Schelia, attenzione, Dendonker prova a chiudere, Kvara prova a dare una mano, niente da fare, grande chiusura di raccamane, Ziedischi, palla per Kvara, Schelia, che va da Politano, si gira Matteo Politano, dentro per Anghissa, scende Zambu, Anghissa, che prova a buttarla dentro, Osimene però stava puntando l'altro palo, attenzione, Kvara, Schelia, prova a tornare, Anghissa, gran recupero palla di Zambu, Anghissa, che poi allarga per Politano, dentro per Kvara, Schelia, va da Ziedischi, il dribbling di Zielo, attenzione, Zielo, Zielo dentro per Kvara, Schelia, che arriva, Kvara, torna da Ziedischi, che crossa in mezzo per Politano, niente da fare, arriva Anghissa, Politano, per Osimene, che non tira di prima, Amozranbenner, Kvara, Schelia, palla dentro, troppa fretta, Anghissa, Nathan, palla per Anghissa, troppi errori qua, se ne va Maradona in contropiede, contropiede di Diego, mamma mia, Rachmani, chiusura pazzesca di Rachmani, Ziedischi, Dendonker, Di Lorenzo, palla per Kvara, Schelia, vada Zielo, che appoggia, Osimene, che la ridà Ziedischi, che scende, fermato Ziedischi, devo togliere, devo togliere l'attacca, devo togliere l'attacca, attenzione, viera, prona a ripartire loro, Nathan, palla dentro, Rachmani, errore di Rachmani, palla dentro, Dendonker, De Bruyne, Pempe, mamma mia di Lorenzo, poi Dendonker, palla per Politano, Anghissa, 1-2 che non si chiude, ripartono loro, palla per Pempe, Mario Lui, Meret, rilancio lungo, verso Vittorosimene, che prova ad appoggiare, sfortunati qui Dendonker ancora, allarga per Kvara, Schelia, che prova a girarla, niente da fare, attenzione Dendonker, attaccano loro adesso, Pempe, Maradona, non riesce a riprare palla, Anghissa, no, ero convinto di prenderla, Rui deve rientrare, palla fuori e Dendonker la rilancia lunga, con Osimene, che la dà Mario Rui, che gira verso Politano, si ne va Politano, sulla fascia con un po' di fortuna, la perde, peccato, attenzione Zielischi, dentro per Politano, scende, ancora per Zielu, vada Osimene, tacco per Kvara, Schelia, la parata del portiere, incredibile, attenzione di Lorenzo, arriva Zielischi, Dendonker, Zielischi in chiusura, Zielischi, palla per Kvara, Schelia, errore qui, poi Zielu, dentro per Kvara, vada Osimene, prova ad andare di nuovo da Kvara, Schelia, niente da fare, dopo, Zielischi, Zielu dentro per Kvara, attenzione Kvara, Schelia, appoggia, no, perché ci mette troppo tempo, e quindi non appoggia, ma se la va a riprendere, Kvara, Schelia, cross in mezzo, perché va a staccare Politano, cioè, per quale santissimo motivo va a staccare Politano, ragazzi? attenzione di Lorenzo, bell'anticipo di Giannino, appoggia per Dendonker, che arriva, che poi la data inghissa, che l'alza per Osimene, che va di testa, Ovaldo, prova a colpire, attenzione Zielischi, anghissa dentro per Osimene, che non tira di prima, non tira mai di prima, vittorio, finisce il primo tempo, 1-0, scoppiettante, difficile, ma anche divertente, bella partita, si riparte, si è una bella partita, che non adoro, attenzione viera, ripartono loro, Dendonker, a recuperare palla, vada Zielischi, Osimene, allarga per Kvara, Schelia, prova il dribbling su Rudiger, fermato Kvara, inizione Doku, Kvara, Zielischi, Dendonker, ripartono le palla al centrale per Anghissa, cerca Zielischi, brutta palla persa di Anghissa, provate a riprendere, l'intero a fare, attenzione Maradona, Anghissa, proviamo a correre lì indietro, passate Bruin, palla dentro, c'è stato un lag, mamma mia, palla fuori, eh si sta centrando tantissimo Kvara da là, ma perché? Cioè quando gioca a sinistra non fa così, Meret, rilancio lungo, Osimene però metterla giù, si palla per Kvara, Schelia, non riesce a prenderla qui, arriva Zielischi, niente da fare, Nathan, l'appoggia per Meret, che rilancia lungo verso Victor Osimene, che prova a girarla per Zielo, questa volta ce la fa, Zielischi, errore di Zielo, palla dall'altro lato, Anghissa, Dendonker, prova in chiusura, ancora su Diego, niente da fare, Mario Lui in chiusura, Dendonker, Zielischi, errore qua, attenzione, è passato ragazzi, Nathan, allarga per Di Lorenzo, vada Kvara Schelia, Kvara Schelia fermato, wow, pure allora, Kvara prova a riprendersela, niente da fare, Dendonker per Zielischi, Politano, prova ad appoggiare dietro, peccato qui, Zielischi, ricovera palla di Lorenzo, dentro per Kvara Schelia, attacco per Zielischi, si ferma Zielischi dentro da Victor Osimene, che la riappoggia Kvara, Kvara dribbling di Kvara, se ne va, entra Kvara Schelia in aria per Osimene, attenzione Osin, confusione qui, non sfruttata da noi, provano a ripartire loro, attenzione, con Anghissa che rincorre Chilmic, niente da fare, ancora Anghissa, Nathan in chiusura su Diego Maradona, poi l'alza Nathan per evitare problemi, Politano, prova ad appoggiare, Anghissa scende e zamba Anghissa, la dà Dendonker che stoppa, cerca di capire cosa fare Dendonker, l'appoggia di Dendonker, un po' di fortuna qui, Anghissa dentro, perzi, Rischi, vada Victor Osimene che si gira, Victor e poco non arriva a tiro, devo cambiare qualcosa, assolutamente, Anghissa riguarda una gran palla, Anghissa, dentro per Politano, si ferma Politano, attenzione Viera, butta dentro Rakmani, Zielischi, palla per Di Lorenzo, vada Kvara Schelia, appoggia per Zielischi, che cerca ancora Kvara Schelia, entra in aria di rigore Kvara, cross in mezzo, Simen, niente da fare, arriva ancora Rakmani, perché, perché, perché di Lorenzo, chiuso la pazzesca, Osimene, Napolitano, niente da fare, partita ancora incredibilmente veloce, ma è lui, recupero su Maradona di lui, scende il maestro, va il maestro, vede dall'altro lato Zielischi che l'accomoda velocemente, che cazzo ha preso, che cazzo ha preso, che cazzo ha preso, che cazzo ha preso un po' di audacia, come sempre, noi ci proviamo, poi magari sbaglio, ma ci proviamo, anche se più che Traoré, mettere Nistrom, ok, c'è un gong che se la può giocare al finale di partita, Kvara lo allarghiamo un po' più di qua, con Maradona andiamo un po' più spazio a Diego, ok, ehm, io vorrei stare così, ma, ma anche no, vai, ma vaffaccolo, dentro il cio lito e sti cazzi, dentro il cio lito e sti cazzi, magari negli spazi sti vetti, vediamo, Mario 2, verso Rakmani, che proverà a spizzarla, la palla resta lì Diego, Donnarumma, Donnarumma, il lancio lungo di Donnarumma, attenzione, provano a ripartire loro un gong, anche sa il recupero qui Diego, provano ad andarsene, torna Nistrom, Mario lui, va là dentro, Kubo, attenzione Kubo, Kubo, ancora Mario lui, su Kubo, Kubo se ne va, Maradona, attenzione Nistrom, dentro, palla per Diego, eh dai, Rakmani, prova a cambiare tutto, verso Kvara Schelia, che prova a far correre, che palla non è passata lì ragazzi, Rakmani, palla per Nistrom, calza questo pallone, Kvara Schelia, non riesce a prenderlo, Davids, palla per Di Marco, Di Lorenzo, ripiego, attenzione, scende Giannino Di Lorenzo, Di Lorenzo, palla per Kvara Schelia, riusciamo a più a trovare delle tracce ragazzi, onestamente, Rakmani, mamma mia Nathan, Maradona, palla ancora per Diego, scende Diego, cerca il ciolito dentro, niente da fare, provano a ripartire ancora loro, con Mario lui, che si fa saltare qui, provano ad andare dentro da Di Marco, attenzione Rakmani, può chiudere, Di Marco verso in mezzo, mamma mia Nathan, ha messo un piede provvidenziale, palla per Kvara, dentro per Maradona, la palla alla fine passa, passa Diego, attenzione, si ferma Diego, fallo laterale per noi, ha messo il ciolo per fuori, no, attenzione Di Lorenzo, anghissata, la palla non passa per un nulla, la palla non passa per un nulla, no, 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 lo capito adesso, sa, forse si poteva fare, ragazzi, pareggio, pareggio un po' amaro, pareggio un po' amaro, con un rischio pesantissimo nel finale, ma va bene così, guadagniamo 5 punti, restiamo lì.